buonasera non dovevo registrare a questo punto ho questa mezz'oretta spero che non arrivi il generale da dietro e registro registro anche perché parecchi mi hanno chiesto delle cose quindi voglio fare un video tutorial diciamo torniamo a fare ogni tanto anche questi video perché parecchi mi sa che non hanno capito a volte una mazza di micrep allora ciao rosario rosario antonio musca quindi questo video il dedico a te e ti spiego tutto allora poi penso un attimo che arriva allora parecchi mi hanno chiesto come inserire il vice o vici allenatori nelle squadre micrep facciamo una cosa facciamo finta di partire da zero allora prima di tutto ragazzi io il link di l'ho fatto mi sono preso le van doschi e che lini vedete 00 sono già acquistati questi chi cazzo ce l'ha questi si chiamano solo gp ragazzo che sono punti points fotte sega se volete prendere chi non ha preparatore costa poco li potete spendere così come vedete in alto quando entrate vi dice quanto vi rimane io avevo di 15.550 adesso 13.55 a 2.000 points per la divisa debba vaffanculo di barcellona fatto questo mi sono preso ovvio se li vieni andoschi e facciamo questo primo a sto punto perché so che mi piace malati facciamo questo primo ragazzi one non so che mi piace a dosta ecco qua ci sblocca questi sono quelli non giocatori di saldo uno e due converti addio sono le mandoschi avevo anche pompato e ciao ciao bambina ragazzi oggi non sto a salutare tutti se non se ne vanno tre ore di video allora facciamo così facciamo questo primo questo parte già 94 gli ha già 7.000 punti e la porta 7.000 mamma mamma mi darà un cazzo già lo so 44.000 mica la gran 97 abbiamo portato già già mi va benissimo che abbiamo superato il vgg precedente ma come livelli no perché questo lo porta a 13 livelli su 19 l'immortacci tua e di tu nonno abilità ovviamente niente e posizione niente perché una p che cazzo c'està ma va la video come se c'è già se di sedene Iímt e di bella fuları ora scan zero da mani a questo raga prima di natale oltre che faremo una live per amichevoli lo ribadisco lo confermo lo sottoscrivo faremo uno sminchiamento di allenatori con cioè preparatori vabbè convertiamo un po di ai giocatori per convertire in preparatori ex non lo vedo più ecco qua vediamo quali da cinque livelli mortale comunque passerà quello che io vediamo 15.000 92 e io prima l'altro del 91 ma baffanculo va con ami di merda o quanti livelli 19 ragazzi facciamo questo video veloce partiamo da zero crea squadra da zero la chiamamo Harry Potter che sarebbe con le tre qui va bene prendetevi l'allenatore che volete mettere in risalto questo qui andiamo avanti seleziona crea squadra senza registrar giocatori ok citate dentro ok poi li mettiamo giocatori cliccate semplicemente il tasto r1 allora con la frecce entra vedete andate sull'allenatore che è tattiche per infinite 1 cliccate r1 dice tattiche per infinite r2 fatto questo cliccate sempre sull'allenatore alla tattica 2 quadrato tasto quadrato ed esce cambia vice allenatore cliccateci sopra e scegliete dei vostri allenatori chi volete mette come secondo allenatore fase difensiva io ovviamente ci metto fisher ok terzo allenatore vedete sa già famiglia 120 idem quasi potte perché gli avevo dato già da magna precedente mette negli altri schemi di gioco sempre r1 ragazzi andata tattica 3 che offensiva schiacciate sempre quadrato e metteci l'allenatore che secondo voi debba attaccare io ci metto questo modulo del 424 che mi serve ok che devo attaccare di più di tre punti anche questa vita quasi 120 fatto questo vedete è semplicissimo fatto questo inseriti i vostri giocatori ovviamente lo spirito di squadra o la costi totali variano a seconda di chi mettete come primo allenatore ragazzi ovviamente pote 730 io ne ho abbastanza ne metto sei per dire e sale già 790 che ancora poco quindi ne metto altri 5 per dire poi man mano che mettete i giocatori saliti di questa 8 e 40 già lo spirito di squadra l'omento aumentiamo dopo ide famigliata allora andiamo così prendiamo il portiere che secondo voi ve garba ve gusta io ovviamente ci metto obla terzino destro ovviamente mettete io sto facendo 4 dc è un terzino che attacca però 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 sto pensando vabbè ma facciamo una cosa veloce td ci mettiamo ci mettiamo alex allo coschetto quindi a pompa non è if terzino sinistro ci mettiamo visto che uscirà lettera però va bene scaduto il contratto il prossimo e c'è 94 come gli mettiamo men di vedete ho un giocato giocato che prendete ha già sotto a destra affinità tattica predefinite già lo spirito di squadra secondo lui è già allevato vedete perché il giallo allenati vedete tutti 99 come dc destro ci mettiamo beckenbauer come ct dc sinistra centrale culibali sto mettendo col con le lettere ragazzi facciamo così qui come si fa a vedere allora cliccate qui x schiacciate la levetta analogica a destra la schiacciate al centro e compare questa questa videata di filtro fate a e b e sceglie direttamente i giocatori da inserire allora mettiamoci culibali qui a sinistra visto che abbiamo pescato io ci prendo voglio provare che l'indicare un mancino mi piace sapete che io gioco sempre come dc sinistra con i mancini siccome che non è poco la letta della morte da tanto facciamo così dai facciamo prima dc giorgio eccolo qua che sarà vedete 95 perché ha giocato poche niente ok va bene così come mediano ci mettiamo ovviamente il buon bielà vabbè poi diventa mediano come altro mediano occ ci mettiamo becca al momento come prima p osp ci mettiamo lian messi prima punta ci mettiamo carl lines di che cazzo stiamo a parlare ragazzi vi faccio vedere gli hanno fatto vedere ma ragazzi il sottoscritto cioè lui ha fatto esattamente 11 partite 11 gol e 5 assi che cazzo di caffa e qui sulla sinistra ci mettiamo lui ok poi pian piano vi fate la panchina can ci portiamo 11 perché è molto di chi chi lo sta ci portiamo lui che può fare un po di tutto sinistra destra poi ci mettiamo ci portiamo un bel mediano con i contro coglioni camber ma me lo sto facendo riposare tranquilli ci portiamo un mediano vediamo un bel mediano con le tra b ci portiamo ris poi ovviamente padre poi ci portiamo un po di attaccanti le mando si che le tra e ci va beh portiamoci le vandoschi siamo qui ovviamente un altro mancino mi serve ci portiamo sala e qui ci portiamo il carissimo ma per ragazzi ieri ho pescato un bapè non gli ha dato un cazzo 4.000 punti vedete come costi totali siamo scesi sotto siamo saliti sopra gli 840 ovviamente lo spirito di squadra ragazzi è molto importante scende perché abbiamo superato i costi totali voi non fate altri andare sull'allenatore cliccare col triangolo scusate col quadrato e date abilità gestionali gliele diamo altri 5 tanto ce l'abbiamo e abbiamo portato 8 90 vedete e lo spirito di squadra bom 98 familiarità è già salita ma gli diamo un altro vabbè quasi cosi e 90 e 99 non è arrivato perché che lì non da da mania gli diamo uno vediamo quanto lì da 99 ok ragazzi e qua ovviamente tattica 2 tattica 3 lo spirito di squadra scende ma la felicità è un po alta abbastanza alta perché ovviamente ognuno già dei ruoli a capocchia questi poi basche le modificate tipo già così vedete come cambia facile capitolo e ragazzi anche così cambia 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 in base a come li mettete i giocatori ok fatto questo andate qui andate così e modificate un po la squadra ragazzi vi conviene farlo già prima ok così così vedete vi sto facendo la formazione tossica così questo un po così questo un po così vi era qui lo mettiamo mediano lo lasciamo cicci ma anche mediano becca saliamo con questo saliamo con questo e saliamo con lumini che lo mettiamo un po qui vedete il bello della sp lo potete sminchiare come volete io la lascio qua un po giù ragazzi ok fatto questa levetta analogica a sinistra andate a tattica 2 e modificate già anche questa squadra che vi può servire non spostate i giocatori poi se la cambiate spostati direttamente ok ma voi sistemate già la squadra così va bene ok facile questo un più dentro e questo un po più dentro fatto questa tattica 3 scendiamo qua la sto già preparando così quando l'ha salvata rimane automaticamente salvata tu qui ovviamente tu qui tu qui tu qui tu qui così lui qua diventa mediano questo più stretto questo un po più alto così idem lui ok ragazzi andate già qua e fate tutto giocatore in attacco io già preparo 1 2 e poi non lo so lasciamo così rigorista lui destra lui sinistra lui spalla lui corta lui lunga lui capitano mettiamo via ok queste così tranquilli avanzati mettiamo difensivo viera ancoraggio cosa difendere la rigore contro piede mettiamo ronald ok ovviamente anche qua potete già modificare avanzate fate difensivo sempre viera ampiezza di gioco così si allargano quelli la difendere la rigore contro piede a sinistra tattica 2 lo stesso parte difensivo era difensivo metto ovviamente beck and bow perché difesa 32 deve mettere la l'ha effetti modificare la rigore poi abbiamo fatto così era avanzato era scusate l'ho sbagliato e la difensivo beck and bow è sempre ok beh adesso a sto punto io ho spiegato tutto e la difensivo su beck and bow è sempre ok beh vediamo se riusciamo ma non credo a fare una partita perché non credo che troviamo spero di se è stato chiaro ragazzi di trovare avversari presumo di no ma già come ci mette questa a girare già da qua avete capito facciamo questo ne abbiamo fatta ovviamente il giocatore coppetta ti pareva neanche uno quindi con la coppetta abbiamo mica neanche un o bruschetta e togliamo lui sine vabbè abbiamo capito quadrato abita gestione altre 5 chi è a 9 40 ma non mi va un pre poi abbiamo detto chi abbiamo con la coppetta terzino destro colore 3d perfetto e poi che abbiamo trovato sempre con la coppettina bene me ne manca uno ragazzi ma che minchiata ho fatto ah sì non era minchiata è questo 51 taci tu e di tu nonno e lo mettiamo al posto di canna affanculo ovviamente tu non devi giocare quindi lo mettiamo qui ok ok troviamo l'avversario grazie mi raccomando iscrivetevi soprattutto al mio canale cosa state aspettando io ho detto mi arrivano a 1.500 prima di natale iscrivete al gruppo pespa club italia il primo domenica più resistenza rispetto a quello in cui è uscito la settimana è Stefano lo so Stefano Carparelli auguri buon compleanno allora ragazzi cerco di salutare tutti quelli che mi hanno scritto questi giorni anzi da ieri allora saluto Tony Davide, Stefano Cini, Andrea Otto, Angelo Villani, Diego Serafondo, Giuseppe Salpietro, Mister Zeta, Pestino Macademy iscrivetevi anche da lui Tommy 80 e ragazzi saluto e vi invito ad iscrivere ulteriormente a Luigi Guazzigol cioè si chiama Guazzigol sul suo canale YouTube ragazzi Guazzigol e come voleva si dimostrare Konami Guazzigol ha messo la sua faccia Murtacci tu era meglio che non la mettevi ecco pian pian stanno crescendo anche a te saluto anche gli amici di Passione Pest iscrivetevi ai canali di YouTube di Giovanni Pest Web Giovanni Russo che il suo canale si chiama Pass Web Italia e il canale di Chris Martin allora ragazzi come vedete io video non ne posso portare non la prendete a male ragazzi non c'è non c'è verso di trovare un avversario non c'è verso di trovare un avversario non la prendete a male io non so che cazzo dirvi questo è Konami, questo è Konami uno vuole portare un video di una partita di una challenge non giocata ancora uscita ieri ragazzi che vi devo dire ragazzi vi saluto non la prendete a male proviamo a registrare domani prima della Juve vi voglio bene e alla prossima ciao ragazzi vai a fare in culo Konami vai a fare in culo vai a fare in culo vai vai a fare in culo poi dice non devi dire le parolacce merita di più Konami ciao raga